Questo lo posso dire, non mi vergogno, anzi dovrebbe vergognarsi lui, che si portava il GPS nascosto dentro la giacca e quindi mi infotteva i punti a 10 miglia dalla costa, poi l'ho trovato in mezzo al mare all'alba a 10 miglia dalla costa su un posto stratosferico e quindi la figura c'era fatta lui. L'hai approcciato in quel momento quando l'hai visto? Io ti conosco online, così come oramai praticamente si conoscono tutti, e adoro farmi queste chiacchierate con chi è che ne sa più di me, per molteplici motivi. Innanzitutto per imparare qualcosa di nuovo, e poi perché personalmente sono ossessionato dal trovare quei metodi, quei trucchetti e quei comportamenti che associati poi a delle routine ti fanno fare bene, ma nella vita, a 360 gradi. E mi piace intraprendere queste conversazioni con voi del mondo della pesca, perché sono un appassionato pure io, per cercare di trovare queste analogie e capire un attimino se in effetti ci sono dei segreti e dei trucchi, o semplicemente dei comportamenti che applicati giorno dopo giorno ti arrivano ad ottenere risultati. Tu sei un ex campione di pesca in appena, corretto? Esatto, esatto. Ho vinto il mio primo assoluto nel 2016, poi sono riuscito a ripetermi nel 2019 a Marsala, quindi a entrare in quella piccola cerca di agonisti che è riuscito a vincere più di un campionato italiano assoluto. E quindi... Fuori casa, peraltro, cioè a Marsala. Il primo è stato forse il più bel campionato degli ultimi 10-15 anni sicuramente, a Castelzardo, riuscirono i garnieri spaventosi, io ancora non ero tra i pescatori top, tra gli agonisti favoriti. Ok. E' riuscito a vincere un campionato di quella bellezza da non protagonista a casa di un super favorito. Ok. Era Sergio Giano, un pescatore professionista che tra l'altro è anche un amico, bravissima persona, e che tutti davano per super favorito, perché cariggiava in casa, dove lavora e pesca tutti i giorni da 30 anni, riuscire a vincere lì da non favorito mi ha dato una soddisfazione enorme. Allora, questo è un programma senza... questo è un video, una chiacchierata senza filtri, ed è il bello di questo show. Allora, quando tu arrivi a Castelzardo, quanto sei nella vibe di vincere? L'avevi lontanamente immaginato? No, no, impossibile. Impossibile. Impossibile perché... E cosa succede? No, anche perché nel 2016 il regolamento prevedeva ancora la possibilità, cioè limitava la possibilità di preparare a soli cinque giorni, in realtà quattro giorni e mezzo, perché l'ultimo giorno si poteva preparare, se non sbaglio, fino a mezzogiorno. E quindi sono due campi gara, abbastanza estesi, e tu immagina di arrivare in un posto che non conosci assolutamente, di avere due giorni e mezzo per campo gara, e lì ci devi vincere la gara. Quindi le difficoltà erano enormi, perché i pescatori, gli agonisti di quel campionato, erano tutti molto, molto... Il livello era molto alto, in più c'era Sergio e qualcun altro che conoscevano il campo gara molto bene, quindi arrivare lì da outsider e pensare di non vincere, posso dirlo, o stravinto. Per la vincere! Cioè, ho stravinto, cioè la prima giornata ho quasi doppiato il punteggio del secondo, ho fatto un carniere di pesce bianco, molto vicino ai 30.000 punti, senza cerni, significa un carniere veramente spaventoso, e mi ha dato una soddisfazione incredibile, ed è stato del tutto inaspettato, quindi non so cosa sia successo. Mi suona, cioè, cazzi, inaspettato, nel senso, sì, fare il risultato magari non te l'aspettavi, però giorno dopo giorno, come hai programmato la gara? Ma a livello mentale, a livello personale, più che nell'atto pratico, cioè ti alzavi la mattina, ok, troviamo questi punti, con che spirito lo facevi questo? Dove trovavi questa forza di volere ottenere un risultato? Allora, a me piace molto la parte che precede la gara vera e propria, quindi mi diverte molto andare a preparare, soprattutto in un posto che non conosco assolutamente, quindi c'è questa voglia di scoperta, la voglia di riuscire a trovare qualcosa che magari pescatori del posto non hanno trovato in tanto tempo. Quindi sembra una banalità, però quasi in ogni campionato c'è sempre, anche in campi gara che sono strasfruttati, dove si sono svolti altri campionati, c'è sempre quell'angolino, quel pezzettino di mare nascosto, probabilmente vergine, che ti dà quella voglia di fare qualcosa di leggermente diverso rispetto agli altri, che poi ti permette di andare a scoprire un posto in una zona dove probabilmente non è mai passato nessuno, dove nessuno ha avuto l'idea di andare a cercare e quindi mi sono divertito molto perché ho partito da zero e poi io quando arrivo in un posto che non conosco cerco di non ascoltare molto i consigli dei pescatori del posto, degli amici che cercano di consigliarti, vai qui, vai lì, vai lì, cerco di resettare tutto e quindi avere la mente sgombra, totalmente aperta e cercare di fare qualcosa di diverso rispetto agli altri. Ok, questo è interessantissimo perché ti dà l'idea di quanto mentalmente forte tu sia, poiché in una situazione di stress e in una situazione dove comunque in ballo c'è tanto, c'è la voglia di fare una bella figura, c'è anche magari fino a quel momento, non so, mi sento di dirti, non c'era un nome, quindi magari non c'era un'aspettativa, però questa tua fermezza mentale nel non lasciarsi influenzare da consigli, che inevitabilmente chiunque andrebbe a chiedere, cioè il primo io se vado a pescare a Forte Ventura dico, oh ma datemi qualche dritta, e di questo è eccezionale. Questa credo sia una caratteristica soprattutto degli agonisti molto, molto forti, sono quelli che appunto arrivano in un posto, non ascoltano i consigli degli altri, non vanno in giro a chiedere, perché quello denota un po' di insicurezza, quando arriva l'agonista da fuori che inizia a telefonare a diecimila persone, a farsi l'amico, a farsi poi magari riceve diecimila punti già sfruttati, e quindi è fortemente condizionato, e invece non parte con una mente sgombra. E questo poi vedi, è esattamente quello che mi piace denotare, che vedi non ti lasci influenzare facilmente. Ho un paio di domande da chiederti. Allora, intanto di cosa ti occupi? Partiamo da questo, nella vita. Che lavoro fai? Bella domanda. Negli ultimi anni, diciamo, da più di dieci, quindici anni a questa parte, ho cambiato diverse professioni. Sono partito dalla vita militare, dove sono entrato e uscito diverse volte, iniziando dall'Accademia Navale, poi sono uscito, poi sono rientrato in Accademia, sono diventato un ufficiale di Marina, mi sono fatto spedire in Sardegna, alla Maddalena. Ti racconto un piccolo aneddoto, perché dopo il corso in Accademia risultavo secondo in gradatoria, e quindi, diciamo, chi è più alto in gradatoria manda le preferenze, e solitamente viene accontentato. Le mie preferenze erano tutte per la Sardegna, quindi, se non sbaglio, la Maddalena, la prima, le altre erano Alghero, Cagliari, me non ricordo nello specifico. Comunque, andai nel comandante, le preferenze tu le mandi a Roma, quindi il comandante non sa, il comandante del tuo corso, non sa le preferenze che tu hai scelto. Quindi, finito il corso, inizia il suo discorsetto, mi ha detto, sai, si è arrivato, si è classificato bene, in gradatoria, e certo la destinazione è un po' così, però l'incarico comunque che potrai avere lì, è importante. E mi ha detto, vabbè, comandante, dove cazzo devo andare? E mi ha detto, vabbè, tra la Maddalena. No, alla Maddalena. E io contentissimo, perché lui non sapeva che io avevo... Questa passione per il mare. Sì, la Maddalena viene vista un po' come l'isola della punizione, perché sono, immagina, l'isola, sull'isola dell'arcipelago, e quindi ho trascorso tre anni lì, alla Maddalena, bellissimi, sia dal punto di vista umano, lavorativo, che dal punto di vista della pesca, naturalmente, il mare della Sardegna è fantastico. Poi sono tornato, ho lasciato da parte la vita militare, ho lavorato con l'azienda di mio padre, che è una piccola ditta edile, quindi mi sono fatto il mazzo per diversi anni. E negli ultimi anni... Ma spiegatevi come mai sei tornato? Come mai sei tornato a casa? Te lo dico, prima che mi rispondi, te lo dico perché è da otto anni che sto in Inghilterra, io quindi mi ritrovo molto in questo... Sì, guarda, sapevo già dall'inizio, almeno la seconda volta che rientrai nella vita militare, sapevo che sarebbe stata una parentesi di tre anni, l'ho presa come un'esperienza di vita lavorativa, che mi ha permesso... Insomma, la scelta che assolutamente rifarei, è come rifarei la scelta di lasciar perdere quella carriera. quella carriera, quindi non ho rimpianti. L'hai aperta e l'hai chiusa, ok. Sì, sì. E niente, ho lavorato con la ditta di mio padre, sono fatto il mazzo per diversi anni, e ultimamente ho trascurato anche quella parte lì, sto cercando di lavorare nel settore, diciamo, nostro, del mare, della pesca, purtroppo è un settore abbastanza di nicchia, abbastanza povero, e quindi riuscire a farne un vero e proprio lavoro non è facilissimo. Quindi sto iniziando a lavorare con degli stagi in giro per l'Italia, qualcuno anche all'estero, ho qualche contratto con le aziende del settore, che però non ti permettono di vivere, di farne una vera professione, e quindi sto cercando di costruirmi qualcosa in questo mondo. Nell'ultimo periodo poi ho cambiato di nuovo residenza, anche se mi sono spostato di poco, perché ho conosciuto la mia attuale compagna, Giada, e quindi mi ha prelevato dal mare, io abitavo a cinque minuti dal mare, adesso abito nell'entroterra, visto mezz'ora dal mare, e quindi è l'aiuto, diciamo, nella gestione, è una struttura ricettiva abbastanza grande, è una masseria interno del Salento, equidistante dal mare, dallo Ionio, dall'Adriatico, quindi se volete venire in vacanza in Salento, potete contattarmi, faccio anche un po' di sicurezza. Allora, la domanda, la domanda, perdonami se ti interrompo, prima che mi sfugge, ma alla Checco Zalone, che cosa ne pensi del posto fisso? Per come lo intendiamo noi italiani, chiaramente. Da questa piccola parentesi che ti ho fatto negli ultimi 10-15 anni, avrei capito che non sono alla ricerca del posto fisso, che naturalmente ti può dare alcuni vantaggi, dipende molto dalla personalità di ognuno di noi. Ci sono le persone che hanno bisogno appunto di un ordine, hanno bisogno del posto fisso, hanno bisogno di sicurezza, hanno bisogno di programmare, riuscire a programmare il futuro. Poi ci sono altre persone che cercano di non arrangiarsi diversamente, ma ad esempio io non... Valorizzare altre cose magari? Esatto, io non ho tanta paura di quello che potrà succedere in un futuro remoto o prossimo. e quindi rilasciandomi al discorso di prima, anche lì entra in gioco un po' la forza mentale. Il posto fisso, certo, ti dà la garanzia, ti dà la sicurezza, ti dà un po' di stabilità, ma dopo un po' di tempo si entra nella routine, poi dipende dal tipo di posto fisso, ci sono poche possibilità di fare qualcosa di diverso, di migliorare la propria posizione economica, di ricoprire altri incarichi. Quindi l'idea di lavorare tutta la vita nello stesso posto, facendo le stesse cose, sinceramente a me non è entusiasma. Non è entusiasma, sì. Lasciamola io. Ci sta, ci sta. E questo mi ritrovo tantissimo in questo modo di pensare. Lo trovo tremendamente noioso avere la consapevolezza che... Sì, in Italia siamo molto legati al posto fisso. Infatti mio padre, che anche se è abbastanza giovane, si è appena compiuto 60 anni, però un po' è ancora della vecchia guardia, quando lasciai la vita militare, non mi parlo per tre mesi. Sì, sì, me l'immagino. E invece rispetto alla tua compagna e alla tua famiglia, questa... volere dedicare la tua vita al mare a 360 gradi, quindi dal punto di vista pratico e poi economico. Da quel punto di vista sono fortunato perché Giada mi ha conosciuto che già ero molto dentro. Siamo conosciuti... Adesso faccio una figuraccia, speriamo che non mi ascolti. No, stiamo insieme da quattro anni, quindi mi ha conosciuto nel 2019, inizio 2019, quindi ero già molto dentro a quest'ambiente e quindi è molto comprensiva. Se ti avesse voluto estirpare da questo, probabilmente già da oggi... Sì, ma ho messo le cose in chiaro subito e quindi va abbastanza bene anche perché abbiamo una figlia, la figlia di Giada, ormai è diventata come se fosse una figlia mia, Viola, e riusciamo tra i vari impegni a organizzarci. Non è facilissimo, anche perché il suo lavoro porta via tanto tempo, non ha degli orari prestabiliti, è un po' come il mio, quindi riuscire a organizzarsi è un po' complicato, però riusciamo a tirare... Ci si organizza, ci vogliono teste organizzate e con voglia di fare, sicuramente. Ascoltami, questa piccola serie si chiama I lupi della peschina appenea, un po' a richiamare Wolf o Wall Street. Mi è piaciuto avere questo approccio rispetto a queste personalità che stimo tantissimo e al quale ambisco. Non voglio essere sincero, mi piace lavorare su me stesso al punto da riuscire a creare quella fermezza mentale tale da arrivare a obiettivo dopo obiettivo e crearmi anche un futuro. Quindi, intanto, grazie di nuovo per questa opportunità, ne sono contentissimo. A proposito di lupi di mare, con Marco Bardi si parlava di lupi di mare buoni e lupi di mare cattivi. E parafrasando, si parlava di coloro che giocano sporco nell'ambito agonistico, ma questo discorso penso si possa estendere anche al normale livello amatoriale. Per lupo di mare io vedo quella persona dedita a quello sport che può essere la canna o la peschina a peneo o tutto quello che riguarda il mare che, diciamo, non vede altro e non vedendo altro riesce a ottenere risultati pazzeschi in termini di catture, ricordi ed esperienze. E ti racconto un breve aneddoto che fa parte della mia vita da quando ero piccolo. Io ho un cugino che è bravissimo a pescare con la canna. Io ho sempre visto questo mio cugino e lo stai portami a pescare andiamo, andiamo, andiamo. Bene, in probabilmente 20 anni questa cosa sarà accaduta tre volte, quattro volte. Perché lui non ha intenzione di portarti? Sì, perché chiaramente capisco la sua posizione e tutto quello che lo distrae è un rallentamento da ciò che ama e da ciò che fa. Ok? E lo posso pure capire. Tuttavia, questo in me non lo nascondo ha creato un fortissimo trauma nel senso che dico, ora sto forse esagerando però, insomma, ci rimanevo male. E allora, dopo questo spero di non averti influenzato dimmi tu, ma tu te ne porti ragazzi a mare? La fai vivere la tua esperienza? Organizzi qualcosa? Raccontami da questo punto di vista come è lui? Allora, da quel punto di vista sono un po' atipico perché cerco negli anni ho cercato di staccarmi da quelli che sono i veri e propri lupi di mare che è gente dalle mie parti si dice gente di mare né per amico né per compare no? Perché spesso questo tipo di persone mette il mare quindi i pesci o la cattura davanti a tutto come hai detto e fino a un certo punto va bene però quando si è tra amici e questo genere di persone mette davanti all'amicizia le gelosie allora lì capisco che quella è una persona che bisogna mettere da parte che ho tantissimi esempi di amici posso percepirla questa cosa amici o conoscenti che fuori dal mare sono un tipo di persona ma di generosissimi amiconi che puoi chiedere qualsiasi cosa cercano di aiutarti poi in mare si trasformano completamente ho avuto anche diversi episodi spiacevoli non voglio entrare adesso nei dettagli ma se ti raccontassi raccontassi mi resti scioccato Luigi uno me lo devi raccontare senza fare nomi no 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 perché sono cose abbastanza abbastanza diciamo gravi che hanno avuto anche risvolti diciamo legali ok ok capisco e quindi io ho cercato un po' di di staccarmi da questo genere di comportamenti quindi per me l'amicizia viene davanti ai pesci ai posti e quindi cosa succede che ormai porto con me solo le persone che reputo veramente amiche anche perché ho avuto altri episodi ancora ancora spiacevoli di persone alle quali magari ho insegnato tante cose o li ho portati a pesca li ho dato fiducia e poi ho scoperto ad esempio questo lo posso dire non non mi vergogno anzi dovrebbe vergognarsi lui che si portava il il gps o nascosto dentro dentro la giacca e quindi mi infotteva i punti a 10 miglia dalla costa poi l'ho trovato in mezzo al mare all'alba a 10 miglia della costa su su un posto diciamo stratosferico e quindi la figura c'era fatta fatta lui ok l'hai approcciato l'hai approcciato in quel momento quando l'hai visto sì sì anche questo non si non si può dire preferisco non dirlo come l'ho presa non ti dico come l'ho presa perché lasciamola all'immaginazione no perché lì non vai più a a toccare il discorso pesca mare ma lì mi stai tradendo come amico mi stai tradendo come amico quindi lì l'amicizia naturalmente termina quindi io sono un po' atipico sì io sono un po' un po' atipico comunque ma guarda secondo me dico ci sta specialmente quando quando ci sono in mezzo introiti economici poiché magari c'è chi ci vive legalmente o illegalmente con con la pesca è quasi normale mi viene da dire però capisco pure che sono dei valori che è più semplice rispettare quando non ci sono interessi economici in realtà si dovrebbero rispettare in ogni caso tuttavia purtroppo il mondo è bello perché è vario non si tratta solo di interessi economici che peraltro non sono da sottovalutare ma per chi è veramente pescatore e ha diciamo il pesce la la preda emana una attrazione talmente talmente forte verso verso il predatore che 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 qualcosa secondo me è ancora al di sopra rispetto agli interessi economici chi è veramente pescatore nei cacciatori succede la stessa cosa no ad esempio chi va a caccia difficilmente vende le proprie prede però i cacciatori sono ancora sono peggio dei pescatori quindi sono interrotte amicizie sono state risse malolingue su in quell'ambiente mi viene da dire cinghiali cinghiali sparati per sbaglio ma allora queste sono queste sono state diciamo in breve le cattive esperienze che fanno parte chiaramente di tutta la vita tu cosa ne hai imparato da questo come approccia adesso una nuova persona una nuova conoscenza tendi a dare fiducia da subito no non ho conoscenza no diciamo negli anni di esperienze di questi di questo tipo ne ho fatte tante quindi fiducia subito no no assolutamente no sono anche nella vita privata tendo difficilmente a dare subito fiducia ad una persona infatti di primo acchitto posso sembrare un po' scontroso qualcuno che se la tira un po' sulle tue in realtà non è un meccanismo di difesa ma è proprio un modo di essere ho bisogno prima di inquadrare quella persona conoscerla metterla un pochino alla prova quasi alla prova anzi sì e poi può entrare nelle mie cerche dobbiamo capire se ci possiamo fidare di te e quindi esatto qual è stato uno dei rapporti più belli invece che è nato grazie al mare e di cui più hai memoria e di cui ti piace parlare ma tanti amicizie ne ho ancora tante adesso ho raccontato le mie creative esperienze però ci sono state tantissime belle esperienze e una su tutte quella con Francesco Sena con Francesco Sena anche fuori dal mare ad esempio la domenica a pranzo spessissimo stiamo insieme quando lui non è in giro per il mondo e mi ha accompagnato diverse volte nei campionati italiani come assistente e con lui non ho mai vinto e quest'anno ci ritroviamo infatti è confermato quest'anno si gioca in casa sì sì si torna in Puglia a Santa Maria di Leuca Campogara sinceramente non è uscito ancora il Campogara però dovrebbe essere diverso da 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 quello del 2021 dove si è svolto il campionato di Torre San Giovanni dove sono arrivato secondo dove ha vinto il suo primo campionato Giacomo De Mola però ho confermato Francesco perché mi trovo molto bene con lui anche al di fuori dal dall'ambiente diciamo mare quello è molto importante quando vai a affrontare la competizione è molto molto importante che totale sintonia esatto che ci sia sintonia col proprio assistente poi in gommone e anche in acqua mi dà una una grossa ma adesso sto parlando troppo bene di Francesco in realtà no ma ci sta diamo a cessare qualche dicessere ma questo denota sicuramente poi si poi si culla nei video che avrete sicuramente visto io l'ho maltratto perché poi fa tante altre cose che a me non piacciono ma io penso che faccia parte dei rapporti veri di amicizia questa presa per il culo costante a proposito di presa per il culo Luigi cosa cosa ti ha in questo caso di Francesco ma è una cosa che si può chiaramente estendere a qualunque di progetto di amicizia qual è uno dei valori nell'amicizia a cui tieni di più cioè se lo volessi identificare quando è che ti senti tuo amico di una persona ma quando hai una cosa abbastanza sì esatto quando hai totale fiducia e questa cosa naturalmente vale anche per i rapporti ad esempio con la propria compagna io reputo diciamo un amico un anche se sono etero un un compagno un vero e proprio compagno del quale puoi fidarti anche se non ci si sente per tanto tempo quando si rivede o quando hai bisogno quella persona c'è ed è disposta a fare tutto o quasi per aiutarti fantastico io guarda pure io chiaramente come chiunque nella vita delusioni amicizie nemicizie nemici però alla fine bisogna ragionare secondo me per principi per amore per rispetto e per reciprocità se così si può emergere tutto insieme ho notato che la pesca subacqua è uno sport eseguito praticamente un po' da tutti ma estrapolando dei dati dai canali youtube si denota e confermerai probabilmente che comunque gran parte della gente che lo segue è comunque grande di età è uno sport abbastanza anziano anche se comunque anche secondo me come un po' la caccia la nuova leva si sta facendo vedere e sentire quante ore passi in mare e che consiglio daresti a chi è nella cinquantina nella sessantina e sta un pochettino sai perdendo quella forza di levataccia mattina freddo dove consigli di cercare la passione a queste persone e quanto tempo spendi in mare in media allora spendo in mare quante ore spendo in mare dipende naturalmente dalle condizioni del tempo in inverno ho ridotto tantissimo la mia attività sott'acqua perché vivendo nel basso salento io sono di base a otranto in adriatico l'acqua diventa porbilissima molto fredda c'è veramente poco pesce quindi faccio veramente fatica a trovare quello stimolo quell'input che mi dia la la forza di andare in acqua in questo periodo e quindi nel periodo invernale ho preso in mano attrezzature diverse vado a pesca con la canna con diverse tecniche dalla traina col vivo alle tecniche verticali con le quali mi sto divertendo molto perché mi danno la possibilità di spaziare e di di cercare a più ampio raggio quindi posso allontanare tantissimo dalla costa posso trovare ancora a zone vergini e ultimamente ne ho trovata qualcuna ed è quello che mi dà appunto la voglia di andare in mare a cercare e con questo tipo di tecniche diciamo si è risvegliata quella 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 parte che ok quindi diciamo che è subordinata ai risultati sì esatto sì ok esatto io sono purtroppo dico purtroppo ancora molto legato alla alla cattura del pesce e ci sta cioè io mi diverto quando catturo il pesce ok se non se non catturo pesce faccio proprio difficoltà a divertirmi che è un concetto sbagliato ma è vero no per chi si avvicina però ok sai nella vita ho catturato veramente tanto pesce in tanti posti ho visto posti veramente fantastici quindi l'idea di andare in acqua e stare cinque ore in acqua a soffrire per catturare quell'unica preda di modeste dimensioni mi abbassa la voglia di fare sacrifici le competizioni invece le competizioni adoro fare le competizioni perché ti danno quello stimolo di andare diciamo in acqua che dici io in inverno che non ci vado perché non catturo niente però ci vado perché devo mantenermi allenato ci vado perché tra sei mesi avrò una gara importante quindi devo rivedere quella parte dell'attrezzatura e quindi la competizione probabilmente le gare sono uno stimolo in più sono lo stimolo adesso che mi danno la forza per andare in acqua anche quando ho poca voglia questo questo può essere interessante magari a chi ha qualche anno in più l'idea di farsi un brevetto da peschina a penea di farsi un corso magari cominciare a gareggiare può essere una forte fonte di ispirazione assolutamente sì assolutamente sì anche perché non bisogna per forza andare a diventare campione nazionale andare in nazionale ma fare le gare ti permette tutto di stare in un ambiente piacevole conoscere nuove persone dà la possibilità di andare a pescare di andare a pescare in posti e in fondali dove magari da solo non saresti mai andato diciamo questo è un consiglio che posso dare soprattutto ai peggioni ma a tutti la possibilità di variare tipo di fondale ti fa fare l'esperienza giusta per poi metterla in pratica anche in posti che frequenti normalmente e quindi appunto io consiglio a tutti di iniziare a fare le gare senza avere chissà quali ambizioni però sicuramente è qualcosa che ci permette di migliorare perché comunque ti mette in diversi contesti al quale tu non sei abituato e ti forza a quei contesti e probabilmente come dici tu ti va con l'occhio giusto a creare quell'elasticità mentale da poi imparare a prendere un qualcosa di qui prendere un qualcosa di lì e poi magari dove ti trovi trovi riesci a leggere le condizioni a trovare esatto una caratteristica del bravo agonistica di un bravo agonista è proprio questa che bravo agonista in poco tempo riesce a capire cosa cercare dove cercare come cercarlo e viene in mente ad esempio Oscar Cervantes campione campione spagnolo che ha vinto l'europeo in Danimarca probabilmente non ha mai pescato in vita sua in Danimarca pescando merluzzi o pesci piatti e poi è riuscito a vincere in Tunisia arrivato secondo in Sardegna pur con una preparazione abbastanza diciamo ridotta perché secondo me lui ha proprio la capacità di in pochissimo tempo riesce a capire cosa andare a cercare e qual è diciamo la la chiave di quel campo gara e naturalmente allora questa è una cosa quasi impalpabile quella di cui stai parlando l'ho notata con Giacomo l'ho notata con Marco la sto notando con Giacomo naturalmente è un altro che non sta a me dire quanto è forte però anche lui ha questa caratteristica di andare a un posto non farsi condizionare da nessuno si mette lì testa dura a cercare e fa quasi sempre capisco che capisco che è una cosa è una sensazione molto personale questa che si sviluppa probabilmente è pure difficile da puntare e dire fai questo fai questo e fai questo perché chiaramente non è possibile ma secondo te riesci a riassumermi una volta per tutte qualche punto focale da tenere a mente quando si entra in acqua per cercare di capire quanto più velocemente la situazione è fattibile cioè si riesce a puntare col dito farei fatica a metterti per iscritto so tre punti è qualcosa che un po' un po' senti alcune persone già guardando la carta nautica riescono spesso a indicarti qual è la zona migliore qual è la zona dove gli altri non hanno cercato perché magari il 90% degli agonisti guardando una carta nautica si concentra in un posto poi arriva il campione che va diretto in un altro posto e ti trova quel qualcosa che ti fa fare risultato durante la gara il comportamento dei pesci ad esempio appena un campione vede un pesce un sarago una corvina una cernia riesce subito a capire se quel pesce è un esemplare disturbato se un esemplare che si va a intanare se è un esemplare che non si va a intanare e quindi se arrivi in certi posti in cui i pesci non si intanano quindi capisci che è inutile andare a cercare in intana ma ci sono altri posti dove il pesce si butta direttamente nelle alghe allora lì capisci che è un pesce abbastanza smaliziato e anche se vedi tanti pesci è inutile fare affidamento su tanti pesci sai già che lì ne catturerai uno solo e quindi sono queste piccolezze come un puzzle che tante cose messe insieme poi in poco tempo grazie all'esperienza pregressa ti 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 mettono in condizione di avere un quadro completo e riescono riesci a farlo prima della competizione perché dopo la competizione diventano tutti bravi ah sì si doveva andare lì si doveva fare così no devi dirlo prima quando lo dici prima la leggi prima e poi si avvera allora lì esatto esatto ma di questo processo nel frattempo che avviene perché comunque è un discorso che noi lo stiamo parlando subordinato alle gare ma chiaramente si può anche estendere all'esito dalla domenica in mare e quindi dico tu lo riesci riesci a percepire durante la pescata queste cose e c'è un momento in cui dici ok adesso facciamo questo e facciamo il pesce riesci ad arrivare a quel momento o è sempre un po' casuale come cosa no 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 secondo me non è assolutamente casuale ti faccio l'esempio di di un pescatore che pesca sempre nello stesso posto sempre allo stesso modo e dopo 30 anni pensa di conoscere tutto nel suo posto questo è un classico esempio metto e cito sempre le competizioni perché c'è sempre il pescatore del locale del posto dice ah io qui conosco tutto e io so questo so questo so questo poi arriva il campione da fuori in tre giorni ti trova i pesci che il locale non sapeva nemmeno che esistessero esatto esatto ad esempio in ti cito un esempio bellissimo che ho già ho già parlato di 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 questo avvenimento durante il campionato del mondo in Sardegna e seconda giornata Giacomo e Oscar sono partiti su un pezzettino piccolissimo di di roccia dove c'erano una quindicina di capponi giganti pesci da fino a due chili due chili e due tu immagini adesso quindici venti miglia di campo gara ai quindici venti giorni di preparazione e chi sono stati quelli che hanno beccato un pezzettino di roccia di non so venti metri quadrati in trenta chilometri di mare può mai essere un caso che siano stati Giacomo e Oscar vorrei spezzare una lancia a mio favore il terzo ad aver trovato quella quel pezzettino di roccia sono stato sono stato io il primo o secondo giorno di preparazione Giacomo l'aveva già trovato in quel caso ero riserva quindi un posto sul quale poi è partito Giacomo perché anche lui durante uno dei primi giorni di preparazione ha trovato quel pezzettino quindi secondo me non può essere una coincidenza che tra 50 concorrenti tra i più forti concorrenti al mondo proprio i più forti Giacomo e Oscar abbiano trovato quel pezzettino di roccia che era cruciale per la vittoria del campionato determinazione ci vuole passione ci vuole costanza non mi hai detto però quanto è intuito chiaramente non mi hai detto quante ore tu mettiamo caso parliamo di bella stagione estate durante una settimana quante ore passi sopra e sotto la superficie allora quando vado in mare ormai la mia pescata dura diciamo dalla mattina fino alla sera dura dalla mattina alla sera poi pescando fondo non puoi pensare di andare in mare tutti i giorni o per più giorni consecutivi perché a livello fisico a un certo punto cedi e poi diventa anche pericoloso per i problemi dovuti a malattie da decompressione mi cerco chiamati taravana e quindi se pesco uno o due giorni di seguito molto profondo poi mi tengo uno o due giorni di riposo anche perché fino all'anno scorso adesso ti sembrerà strano ma ho sofferto tantissimo di un problema all'orecchio che mi ha limitato da questo da sempre e quindi non riuscivo mai a fare più di un giorno di seguito in acqua adesso ti sembra una cavolata sembra che io stia esagerando ma anche durante le gare è stato per me un enorme problema e questo problema all'orecchio destro praticamente mi si chiudeva la tuba dopo x ore o dopo diversi giorni di seguito in acqua mi si chiudeva la tuba e per riaprirsi per disinfiammarsi aveva bisogno di 3, 4, 5, 7, 10 giorni quindi per me è stata veramente una tortura ho vissuto costantemente con quest'incubo l'anno scorso finalmente è stata dura dopo aver consultato decine di medici essermi sottoposto a operazioni sono riuscito a risolvere questo questo problema con la tecnica non so se è il caso di entrare nel dettaglio di questa cosa però diciamo che dall'anno scorso da giugno dell'anno scorso per me si è aperta una nuova vita per quanto riguarda la pesca su paura bene bene e quindi sono sono molto contento di questa cosa quindi spero di riuscire ad andare in acqua molto più frequentemente degli anni scorsi bene e l'ultimo paio di domande intanto capisco l'umiltà e quant'altro ecco tutta sta serie di di cose normali quando si parla di queste cose ma Luigi quanto ti senti favorito per vincere quest'anno ma sicuramente sono no sicuramente sono tra tra i favoriti favorito rimane Giacomo anche per le caratteristiche del del campo gara e che lui è pescatore veramente completo e verrà tanto tempo prima a preparare quindi a tutte le carte in regola per essere il super favorito io insieme ad altre penso 3-4 persone siamo i favoriti un gradino appena sotto appena sotto hai qualche strategia chiaramente dico non se ne può parlare sono informazioni sensibili ma pensi di marcarlo stretto no no perché sarebbe inutile sarebbe inutile perché John fisicamente ha qualcosa sicuramente qualcosa in più rispetto a me e alla stragrande maggioranza degli altri atleti quindi devo trovare qualcosa di diverso per bat devo fare qualcosa di diverso per bat che mi è parzialmente riuscito tipo a Marsala Marsala io sono arrivato primo lui è arrivato terzo lui ha fatto un certo tipo di gara io ho fatto sapevo che lui avrebbe fatto quel tipo di gara e per me sarebbe stato impossibile che quelle condizioni di corrente gareggiare allo stesso livello suo quindi ho cercato qualcosa di diametralmente opposto diverso nello specifico lui ha pescato fondo a 30-35 metri con una corrente pazzesca io ho pescato razzolando a 10-15 metri quindi sapevo prima della gara che entrambi avremmo pescato in questa maniera diversa quindi ho cercato qualcosa di completamente diverso mi è andato bene sono riuscito a batterlo durante il campionato di torre san giovanni io sono arrivato secondo e lui primo anche lì ho cercato qualcosa di diverso però non è bastato per contenerlo ad esempio nella prima giornata ho fatto la mia gara molto profondo e lui ha preso un po' di vantaggio e poi mi sono buttato bassissimo per aumentare il ritmo delle catture e ho fatto 5-6 pesci grossi in 7-8 metri d'acqua che mi hanno avvicinato abbastanza a lui però comunque non è bastato quindi quest'anno cercherò di fare di trovare qualcosa di diverso che possa permettermi di competere almeno la pari con d'accordo magari dopo la gara ci facciamo un'altra chiacchierata sulla base di coro di cui stiamo parlando e vediamo vedremo come è andato bene è andato male l'ultima cosa che mi incuriosisce tanto nella pesca subacquea ti aiuta tanto la pesca con canna e viceversa funziona questa combo? assolutamente sono complementari direi ti faccio un esempio pratico conoscendo un branco di pesci identici che ho trovato grazie alla pesca con la canna poi negli anni era un posto abbastanza profondo dove io non ci arrivavo poi negli anni le mie quote sono aumentate e cosa è successo? che posti dove io pescavo con la canna quindi trovati grazie a ore e ore passati a trainare con il calamaro in acqua quindi ho trovato l'angolino dove il branco era abbastanza stanziale e andavo a cacciare poi sono andato a catturarli sott'acqua però i pesci imparano infatti dopo 3-4 volte che torni sullo stesso posto anche se molto profondo anche se non ci va nessuno i pesci ci sono ma ormai ti riconoscono secondo me riconoscono proprio il rumore del tuo del tuo del tuo motore del tuo gommone perché mi ingaccia Luigi perché marchi i pesci sullo strumento sull'ecoscandaglio che ormai è diventato di fondamentale importanza quando scendi non vedi niente anche se quei pesci c'erano mentre le primissime volte quando sono stato il primo a scendere su quei posti le prime 3-4-5 volte marcavi gli stessi pesci quando scendi trovi pesci stupidissimi facilissimi che non hanno mai visto nuovo che sono posti particolari posti molto profondi dopo 4-5 volte i pesci hanno imparato quindi ho la sicurezza che quei pesci ci siano perché li vedo sullo strumento però quando vai a scendere spariscono scompaiono e non prendi niente e quindi cosa fai prima pesca con canna o pesca subacqua e quindi ci scendi dopo con la lenza o prima ci provi con la lenza d'estate d'estate diciamo tra un po' mollo completamente la pesca con la canna quindi quando esco con il fucile in apnea vado a pescare in apnea quando vado a pescare con la canna vado a pescare con la canna quindi divido sempre le giornate comunque il mio amore vero è la pesca subacqua anche se mi piace tantissimo pescare con la canna non vedo l'ora che inizi a scaldare l'acqua che l'acqua diventi più limpida per iniziare a pescare come si deve in apnea e fare solo quello fantastico allora io dopo questa conversazione riconfermo oggi con tutti e lanciamo questo messaggio cos'è che fa la differenza nelle cose la determinazione e la costanza concordi Luigi? esatto esatto ci vuole pazienza nella nostra disciplina ci vuole tanta tanta pazienza bisogna costruirsi quel bagaglio di esperienze e questo bagaglio si riesce a costruire col tempo quindi devo lanciare un piccolo messaggio proprio qualche giorno fa sono intervenuto in un dibattito sulla sicurezza qui a Lecce e il mio messaggio è stato quello appunto di avere calma e pazienza perché si diventa bravi pescatori e soprattutto si pesca in sicurezza andando per gradi step by step non si può diciamo improvvisare non ci sono scorciatoie ad esempio io non è che sconsiglio alle persone di allenarsi però quello che dico è che allenandosi allenandoci come se dovessimo andare a fare l'Iron Man ok? non ci permetterà di catturare più pesci oppure di pescare dieci metri più fondo ok? sicuramente aiuta allenarsi ok? ma allenandosi come dei pazzi per due o tre anni non si può pensare di andare a fare cose che i campioni hanno imparato a fare in venti trent'anni questo è un consiglio che mi sento di dare a chi si avvicina a questa disciplina purtroppo ci vuole tempo nell'era in cui il tempo è sempre più ridotto nell'era del tutto e capisco che è molto difficile riuscire a tenere a barra anche a tenere a barra persone probabilmente fisicamente hanno più di pescatori come me mi ritengo un pescatore della vecchia guardia che ha iniziato quando ancora internet non c'era provando e riprovando prendendo patoste stando tante ore in mare capisco che è difficile da accettare per un giovane di solito quando non arrivano i risultati io l'ho visto con tantissimi ragazzi amici alla base non c'è intanto quell'approccio vero e proprio di volere fare bene e volere migliorare c'è quasi una vabbè andiamo a mare quello che succede succede ci passiamo una giornata insieme e via però ho notato che questo è un trend che poi fallisce cioè poi non si continua più a pescare non si esce più a mare perché chiaramente ciò che ripaga ciò che ti dà quella carica è la cattura ma come si dice arriva alla cattura ne abbiamo parlato oggi grazie grazie tantissimo Luigi grazie a te Cristian grazie grazie a te grazie a te